anticipazioni terra amara 4 gennaio ma prima di svelarvi le anticipazioni della puntata di oggi di terra amara vi ricordiamo di iscrivervi al canale per scoprire in anteprima le rivelazioni delle soap più amate del momento terra amara è la serie tv turca che nel canale 5 manda in onda a partire da luglio 2022 alle 14 10 la serie andata in onda dal 2018 al 2022 sua tv è ambientata negli anni 70 e racconta la storia di zuleya che per amore scappa da istanbul per sposarsi ad adana nel corso dei 423 episodi zuleya affronta perdite gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita in particolare alla famiglia yaman ricca proprietaria di una tenuta grazie alle anticipazioni della soap opera turca di canale 5 terra amara scopriamo che a casa yaman continuano i grandi festeggiamenti per la vittoria del chukurova mentre fecheli indaga sull'incidente che ha coinvolto zuleya e musgan è chiaro che la macchina sia stata manomessa ma da chi inizia a sospettare del coinvolgimento di femir ed emir scopriremo anche che nimet viene ufficialmente licenziata dall'usuleya la quale in un impeto emotivo caccia nimet dalla tenuta degli a yaman troppe disattenzioni da parte della governante fanno scattare zuleya al suo posto seher sarà la nuova governante che curerà il piccolo adnan zuleya si dimostra sempre più riconoscente ed innamorata nei confronti di demir mentre si trasforma in amore il sentimento che lega la dottoressa ad il maz cattive notizie invece per usain che viene preso in flagrante mentre sta rubando del cotone fecheli e il maz decidono di non denunciarlo ma verrà comunque licenziato perché è venuta meno la fiducia nei suoi confronti iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornata sulle ultime novità